40 aule articolate su tre piani, una palestra e un auditorium. Anche Pianura avrà la sua scuola media superiore per accogliere i ragazzi del quartiere. Ad annunciarlo il presidente della provincia Antonio Pentangelo e il sindaco Luigi De Magistris che hanno sottoscritto un protocollo d'intesa per la realizzazione dell'istituto. Sorgerà su un'area di oltre 10.000 metri quadrati ubicata tra via vicinale Campanile e via Padula. La provincia mette in campo 9 milioni di euro per eseguire le procedure di esproprio e realizzare i lavori della struttura e delle aree a parcheggio annesse. Il comune sosterrà invece gli oneri di urbanizzazione e l'adeguamento della viabilità. Un bel protocollo tra il comune di Napoli e la provincia di Napoli. In un momento di crisi continuano a investire sui servizi essenziali, tra questo le scuole. Ci siamo divisi i compiti, l'abbiamo fatto insieme, una collaborazione con tutte anche le forze politiche del consiglio provinciale e del comune di Napoli. Un bel messaggio per un quartiere importante della nostra città. Il progetto per la realizzazione dell'istituto è atteso da oltre 10 anni e garantirà ad una comunità di circa 120.000 abitanti la presenza sul territorio di una scuola superiore. La provincia investe 9 milioni di euro in questa scuola, tre piani, una palestra e un auditorium che saranno patrimonio della città di Napoli e che quindi la potrà utilizzare anche per tutte quelle funzioni sociali che indubbiamente quella zona richiede a gran voce. Probabilmente a tanti ragazzi sarà consentito andare a scuola a 100 metri da casa o a 500 metri da casa e non a chilometri di distanza. Quindi insomma è una buona pagina che mi auguro faccia anche riflettere i cittadini sul ruolo reale, propositivo e concreto che la provincia di Napoli ha sul suo territorio.